buongiorno da obiettivo news oggi 2 dicembre santa bibiana il 2 dicembre si celebra la giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù istituita dall'assemblea generale delle nazioni unite il 2 dicembre 1949 per ricordare l'approvazione della convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui la schiavitù non è semplicemente una questione relegata al passato ma una realtà tristemente attuale lo scopo della giornata è sradicare tutte le forme di schiavitù moderna che includono molte pratiche come il lavoro forzato il lavoro minorile il reclutamento forzato di bambini nei conflitti armati la servitù per i debiti il matrimonio forzato e ogni tipo di tratta di esseri umani la schiavitù implica delle situazioni di sfruttamento che la persona non può rifiutare o abbandonare a causa di minacce violenza vincoli o abuso di potere